L'odissea degli abitanti di Via Cavallitti sta per giungere al Capolinia. Via Cavallitti è un percorso pedonale del centro storico di Caltagirone, segnato e distrutto da eventi idrogeologici che a tutt'oggi hanno lasciato questo spazio nel degrado. Chiediamo che la zona deve essere lampiata subito perché non si può stare più, specialmente in questa stagione, che abbiamo paura magari per altri crolli e altri dettagli per noi abitanti. Crolli, dissesti, abitazioni sgomberate, proteste in intermittenza dovrebbero costituire l'atto finale di traversie pratrattesi cinque anni, 2006-2011. L'ultimo tassello mancante del mosaico era quello più atteso dalla gente, ovvero l'avvio dei lavori di ristrutturazione che sono previsti il 18 gennaio 2012. Speriamo che si possa trovare una soluzione definitiva al problema. Ricordiamo che nel 2007 siamo stati perplini a sollevare questo problema e speriamo che vengano in questa riunione, sono state dette tante belle parole, che vengano rispettati i patti, che ci siano nei tempi certi per quanto riguarda i lavori e che soprattutto si possa trovare una soluzione per coloro che sono rimasti senza abitazioni. Io mi riferisco a persone anziane, famiglie, che si possa trovare una soluzione anche sugli espropri. Conclude il sindaco di Caltagirone, Francesco Pignataro, che ha illustrato nel corso di un incontro svoltosi nel salone di rappresentanza del municipio con i residenti i dettagli del progetto finalizzato alla ricostruzione e al risanamento urbanistico dell'intera area. E questa volta anziché parlare di problemi, parleremo di soluzione di problemi in quanto i lavori di via Cavallitti, di via Pisciaro, la resistenza, i lavori degli spazi al posto delle case, nasceranno delle piazzole, delle aree verde, degli spazi di aggregazione del quartiere, rappresenta un modo per rivitalizzare. Il progetto di ristrutturazione già finanziato ammonta 1.490.000 euro. L'avvio dei lavori attesi la prima decada di gennaio è quindi imminente. La risultante dei commenti espressi dagli abitanti è soltanto una, che alle parole seguono i fatti. La risultante dei commenti espressi dagli abitanti è soltanto una, che alle parole seguono i fatti.